Sono scappati da un allevamento di Bangkok, facendo temere per l'incolumità delle persone. Alla fine i coccodrilli fuggitivi sono stati in parte recuperati e messi in condizione di non nuocere. È stata messa in campo una grande caccia al coccodrillo per rintracciare e catturare gli esemplari fuggiti da un allevamento locale. Il proprietario ha allertato le autorità e gli abitanti del luogo. L'operazione di ricerca ha dovuto coprire un'area di 5-6 ettari.